eccoci qua con un po' di sole a pelle bucicone puntata number one e allora ecco qua l'uomo vi spiega meglio e allora cominciamo ad antennarci una cosa fondamentale e antennamoci così vi arriva pure agli antennati questa bella trasmissione dove ci ha detto bucicone vi farà sentire subito una prima canzone ciao a presto eh e mi raccomando datevi un chintone di a tutti così ovvero saluti ora ciao ciao quello qua